Certo che sì, penso che comunque la crisi serva, anzi serve sicuramente per poter crescere e andare avanti e fare quel passo in più per avere cambiamento. E quando la superi, dopo ti senti veramente bene e sei soddisfatto del lavoro che hai fatto. La crisi che ho avuto è la paura, la paura dell'affrontare il palco e mi bloccava. Non ricordavo le parole, avevo una gran confusione, però mi sono impegnata, mi sono veramente... Ho detto no, io ce la faccio. E così è stato. Grazie. 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 Grazie.